Ho saputo che la maggior parte dei nuovi casi di IDS riguarda ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni. Questa è la realtà. E allora bisogna vederci chiaro anche nei momenti di abbandono. Proteggersi quando si hanno dei rapporti occasionali può non togliere niente. Anzi, ecco un caso in cui la fantasia può salvarti la vita. Grazie.